Allora, buongiorno a tutti. Chiedo scusa innanzitutto se porto gli occhiali ma ho dei problemi, diciamo, di vista ultimamente. Però sono molto entusiasta e molto contento perché con Carlo, ve l'ha detto poco fa, ci siamo conosciuti e ci siamo promessi di collaborare. Anche perché la mia esperienza alla RAI mi ha formato, mi ha forgiato, non so fino a che punto, per farmi godere sempre di più della parola, che è una potente signora, direbbe il gorgia, perché la parola si è fatta carne, direbbe il vangelista, perché l'eros, dice Thomas Mann, è nella parola. Perciò, con questa piccola introduzione, vorrei conoscere i miei carissimi allievi. Se vi volete presentare uno per uno, io sono qui che ascolto. Iniziamo con Daniele Vargiù e Elisa Giardini. Benvenuti. Sì, salve. Salve. Sono Daniele Vargiù, ho 27 anni, abito in provincia di Cagliari. Io studio teatro con l'Efimero Meraviglioso e poi sto seguendo dei corsi con Carlo in radio. Perfetto. Perfetto. Scusa se ti interrompo, prima che mi dimentichi, allora saluta molto Assunta Calvisi, la quale mi invitò a suo tempo di organizzare un corso di edizione a Sintai. Salutamela molto. Mi piace questa tua voce bella, maschile, profonda. Grazie. Grazie, grazie Daniele. Passiamo un altro allievo, vediamo un po'. Buongiorno, buongiorno. Sono Elisa, ho 25 anni e abito a Milano e da poco ho cominciato a collaborare con una radio dell'università che mi piace tantissimo, quindi sono qua per imparare il più che posso, diciamo, da questo corso. Sono troppo emozionata di essere qua, sono troppo contenta. Eccoci qua. Cara signorina, cara mia, io sono molto contento che il mio lavoro si espanda in tutta Italia. Non so quanto in due incontri voi possiate imparare la dizione. Di sicuro, di sicuro avrete degli strumenti, intanto prego tutti i concorrenti di toccarsi con la punta della lingua tutti i denti, c'è chi ne ha 32, c'è chi ne ha di meno, però intanto che io parlo, su, contatevi con la punta della lingua i denti, che ci serve per sciogliere la lingua. Ringrazio la Lombardia e passiamo adesso al terzo. Giovanna Del Vino, che è collegata. Con chi? Giovanna Del Vino. Mamma mia, quanto ci tieni. Giovanna Del Vino, che è collegata, cioè che nessuno si dimentichi. Ciao, sono Giovanna Del Vino. Da dove chiami, cara? Da Roma. Da Roma, anche se io ho questo brutto danno, questo brutto difetto. Io sono pugliese. Che meraviglia. Che meraviglia. Che meraviglia, perché io adoro Roma, con l'ho chiusa, e adoro la Puglia, perché incontrai un ragazzo bellissimo. Diciamo che ricordo la Puglia perché è Puglia e ricordo la Puglia perché c'era questo bellissimo ragazzo. Devo dire la verità, siamo molto fortunati. I pugliesi hanno del talento proprio in beltà e cose ottime da mangiare. Brava. Non dimentichiamo che dalle Puglie arrivò un padre abate benedettino che rimase in Sardegna per qualche anno nella comunità di San Pietro di Sorres. Il padre Antonio Covito, che salutiamo. Grazie, sorella. Prego, grazie a te. Giovanna, sono contento. Vogliamo passare a un altro... Argenita, Urzana e poi Sabrina. Margherita, Urzana e poi Sabrina. Margherita, Urzana. Buongiorno a tutti, sono Margherita Urzana da Cagliari. Ho 37 anni. Lavoro per un'associazione di persone con disabilità visiva. Tra le varie attività noi svolgiamo varie serate di lettura ad alta voce per avvicinare le persone non vedenti al mondo della lettura. Poi abbiamo anche alcune riviste proprio in formato audio. Quindi diciamo che perfezionare un pochettino l'addizione sicuramente è indispensabile. E allora, voglio dire, un'allieva migliore di te con queste finalità. Quindi il cacio proprio sugli spaghetti. Grazie. Tipo vedente, l'occhio sinistro non vede più, il destro un po' ci vede. Sono troppo contento. Penso che potremo stare in contatto anche post-corso facto. Certamente, molto volentieri. Ricordami il tuo nome. Margherita Orgiana. Margherita. Ok, Margherita. Ok, sono contento. Grazie. Poi l'ultima Sabrina. Sabrina, presentati. Buongiorno Sabrina. Sabrina? Ci sei Sabrina? Abbiamo ancora qualche problema di collegamento. Intanto, se mi ascoltate, vi prego di prendere tutti un foglio e dividerlo in quattro colonne. Così cominciamo subito a fare delle cose. Posso? Ecco. Allora, in attesa di conoscere anche le altre due allieve, se avete preso un foglio che ha una O aperta, mentre la moglie che è riservata ha una O chiusa, perché deriva dal sardo Mulleri, e tutto ciò che deriva dal sardo o dal latino, che abbia nell'etimologia una U tonica, diventa una O chiusa in italiano. Ma prima di parlare di aperte e chiuse, vorrei parlarvi dell'arco vocalico. Ecco, non so se avete ricevuto il mio programma che ho stilato. Nel mio programma la prima chiacchierata è sulla respirazione, e quindi sull'apparato fonatorio. L'apparato fonatorio qual è? È la bocca e il naso, ok? Ma io direi anche le orecchie, perché l'addizione comincia dalle orecchie. Il verbo si è fatto carne, come dicono i cristiani, attraverso le parole, e sottolineo, parole di Dio comunicate da un angelo. C'è un bellissimo quadro medievale, ora mi sfugge l'autore e il museo. Comunque avete preso un foglio, con la O aperta, avete preso un foglio e l'avete diviso in quattro colonne, che hanno, le colonne hanno una O chiusa, altrimenti crollano. Le colonne, eccole qua. Nella prima colonna segniamo una E aperta, che è la E di Cio E, a fianco la E chiusa di perché, e poi ancora nella terza la O aperta, la O di però, di classificò, tutte le parole tronche con la O sono aperte, giocherò, salterò, canterò, e a fianco segnate la O chiusa, con un accento acuto. Bene. Allora, prima di tutto, voi ogni giorno, prima di accostarvi alla santa dizione, dovete correre per un po', salire e scendere le scale, non prendete l'ascensore, dovete ansimare, vi calmate, dopodiché aprite il libro, aprite il quaderno, perché dizione significa abituarsi ad avere respiro e quindi avere la respirazione diaframmatica, come gli attori, i quali inglobano aria e cercano di portarla fuori piano piano, facendo anche alcuni esercizi, come questo esercizio che vi propongo. l'addizione è un risultato, è ovvio, l'addizione non la insegna l'insegnante di dizione, l'addizione viene acquisita, certo, dagli allievi attraverso il maestro, ma chi lavora sono gli allievi, perché io ho già dato il mio, ho 67 anni, ho già dato, ho già fatto il mio corso di dizione e recitazione, un corso di approfondimento con la magnifica Aurora Lai della RAI e il corso di dizione lo feci con l'allora cooperativa Teatro di Sardegna, con il regista del quale ora, avendo io un'età avanzata, mi dimentico, ma fra un po' mi arriva. Bene, state respirando bene, inglobate con il naso, esce fuori l'aria dalla bocca. Noi dobbiamo abituarci a respirare bene, dobbiamo abituarci a respirare bene, dobbiamo abituarci a pronunciare bene le parole. Chi è che ci insegna questo? I tipografi. I tipografi sono i veri insegnanti di dizione. Il tipografo, poi il direttore della tipografia, redige, se si può dire, il vocabolario. Il vocabolario è stampato in corpo sedici, dodici. Ogni parola è lineare e ogni parola, potente signora, ha la sua etimologia, ma anche la sua fonetica. Come pronuncerò alcune parole? C'è scritto nel vocabolario, è riportato tra le parentesi quadre. Orsu, stiamo parlando di pronuncia, ma non ho dimenticato l'arco vocale, poi tenetelo, perché fra un po' ci ritorriamo. Se io voglio aperto, la moglie è chiusa, voglio scrivetelo nella colonna della O aperta, moglie scrivete la parola nella colonna della O chiusa. Se voglio, con la O aperta, cercare la bella e la vera pronuncia di una parola, consulterò il DOP, Dizionario di Ortoipia e Buonanotte, Dizionario di Ortoipia e Pronuncia, pubblicato dalla RAI, ma ormai trovate tanto di quel materiale in internet che, voglio dire, tutti i corsi di Dizionario sono superflui. Non è superflua però l'interazione. Allora, abbiamo detto l'arco vocalico. Perché? Perché le vocali sono sette, come ho scritto nel programma. Si parte dalla A e si arriva alla U. La A è la più aperta, aprite la bocca, perché non avete mai aperto la bocca per la A. Più aperta, più aperta. A. Anatra. A. Ok? Bravi. Anatra. Alla U, la più chiusa, buio. Buio. Nuvola. Va bene. La A e la U, dopo la A, esiste in Fonei, è ringraziato fin dall'inizio, collabora, ho perso il filo dove eravamo, alla I, eravamo alla I. La I è centrale, povera, non se la fila nessuno. Poi riprendiamo la O aperta, però, giocò, saltò, e la O chiusa. Poco. La prima O è aperta, l'ultima O è chiusa. Poco. Quindi poco potete scriverlo dove, nella terza colonna, dove c'è la O aperta. Segnate nella stessa colonna della O aperta anche A U latina e A sarda, perché in latino poco deriva da paucus, mentre in sardo dà pagu. Quando c'è una A etimologica, una A sarda, abbiamo una O aperta. Poco. Perché lo sapete meglio di me, il sardo è ancora, assieme ad altre poche lingue europee, una lingua neolatina. Bene. A E, I O U. Un arco, l'avete disegnato, dalla A alla U. A è aperta, è chiusa, I, o aperta, o chiusa, U. A E I O. Con una sola emissione vocalica. Prendete respiro. A E I O. Ancora. Ancora non sapete bene pronunciare, ancora non sapete trovare la differenza. tra l'aperto e il chiuso. Ma la cosa più bella della mia vita è ascoltare il film. Non guardare un film, ma ascoltare la voce meravigliosa di Antonio Pannofino. the best. Una delle lingue maschili, virili, più belle che l'Italia possegga. Certo, assieme a quella di Giancarlo Giannini, Gesù, chi è che ha visto l'amleto di Zeffirelli, doppiato dal nostro grande attore, l'amleto di Zeffirelli. E a proposito di cinema, è da vedere, ascoltare e guardare The Skids of the King. Ho sentito un rumore. Il discorso del re. Il re è chiuso, perché è gentile e rispettoso, mentre il re minore è aperto. D'accordo? Bene, il discorso del re è molto bello, è da guardare, lo sono attaccato al cuore. Il discorso del re parla del babbo della regina Elisabetta, il re Giorgio, che era balbuziente, ma sono riusciti a trovare un bravo insegnante di dizione e vabbè, non vi dico altro. Guardatevelo se lo trovate. Il discorso del re. Bene, abbiamo parlato di arco vocalico, certo, perché le vocali sono cinque. Io adoro quei libri dove perché riporta l'accento chiuso e cioè riporta l'accento aperto. Ma Dio mi viene un sussulto allo stomaco quando vedo perché con l'accento aperto. Perché? Perché non si dice perché. Anche la pronuncia sarda, se la conosce, ne ha di accenti diversi. E già ne ha, già ne ha. Certo, ognuno ha il proprio abito regionale. Ma che meraviglia. se si facesse una sfilata di moda partendo dalla Val d'Aosta, passando per la Lombardia e poi l'Emilia e giù le Puglie, la Sicilia, la Sardegna, una sfilata, un defile di abiti regionali. Bene, grazie. Poi ve li togliete, non rimanete nudi, vi rimettete mettete l'abito l'abito borghese, quello che ognuno di voi ha. E come faccio a stabilire da quale regione proviene questa signora, da quale regione proviene questo bellissimo ragazzo? Ho sottolineato bellissimo perché i ragazzi sono bellissimi e le ragazze sono bellissime. Abbiamo trasmesso l'umanità è bellissima. D'accordo? Allora, mi raccomando, perché, e cioè, hanno una grande distinzione, sia grafica che fonica, fonetica. Allora, molte persone sono consapevoli che sposando una donna non ammazzano la madre, la madre rimane viva e vegeta, grazie a Dio, ma si congiungono spiritualmente e se vogliamo anche carnalmente con un'altra donna o con un altro uomo, chi lo sa. Insomma, sta di fatto che io posseggo la naturalità regionale, certo, certo che la posseggo, come sono ignorante in prima elementare e devo imparare attraverso i puntini, cerchietti e quadretti, attraverso le O, le A, le parole, le compongo con la O chiusa, compongo le parole e così riesco a scrivere bene e così è anche la dizione. Una volta imparato l'arco vocalico, debbo scrivere, guardate che la dizione non è soltanto pronunciare bene le parole, pronunciare bene, ma è anche scriverle. A proposito, vi ho detto di prendere un foglio aperto, un foglio a quattro diviso in quattro colonne, anche le colonne le riportate nella riga della colonna della O chiusa. Ecco, stavo per perdere il filo ma succede quando siamo molto entusiasti e allora continuo da dove mi pare piace. Perché? Perché studiando la pronuncia io posso fare tanti esercizi di respirazione, esercizi con gli scioglilingua. Allora, tre tigri contro tre tigri va pronunciato veloce, però bene, tre tigri contro tre tigri. Questo è un esercizio molto importante. Oppure le ragazze di Roma non si devono mica preoccupare di queste cose. Questo dipende. È una meraviglia la parlata romana, è una meraviglia anche la parlata di Bologna. Tutta, tutta l'Italia è una meraviglia. Ma se noi, perché abbiamo imparato a scrivere bene, potevamo scrivere scienza e coscienza senza la I, invece mettiamo la I, soprattutto ci mettiamo quattro T. Allora, se è vera la ortografia, ancora più vera, con la V ben pronunciata, sarà la ortoepia. Attenzione, io parlo di ortoepia, non parlo o di ortofonia. Dell'ortofonia se ne occupa l'ortofonico che è un medico per coloro che hanno problemi seri, non di pronuncia, problemi di linguaggio. Io mi limito a ricordare che l'italiano ha sette vocali. Questo è il corso di dicione. L'italiano ha sette vocali. Certo, ma se vado a Roma raddoppio la R. Sarò tuo raddoppio la T, il rafforzamento sintattico. Vado a Roma R. Invece, se io comincio a dire una frase Roma è una bella città, Roma, ma vado a Roma vi è un cosiddetto rafforzamento o raddoppiamento sintattico. E ma quante cose belle, ci sono, ma quante? E perché le opposizioni fonologiche? Vostro padre vi dà delle botte o delle botte? No, nella botte è chiusa, altrimenti scorre il vino. Quindi noi ci ricordiamo che le botti hanno una o chiusa, mentre le botte che vi ha dato vostro padre e o vostra madre sono aperte. Vedete, si può giocare molto con la mnemonica, d'accordo? Ai miei tempi, quando ero un bel fanciullo, giovane, sì, ero bello, sì, se qualcuno lo mette in dubbio può vedere le mie fotografie. Io utilizzavo il colore rosso e il colore blu. Rosso per le parole che avessero che avessero un accento aperto, blu per le parole che avessero un accento chiuso. Ho bisogno di incipriarmi il naso o di detergermelo. Vediamo se ho l'assistente. Ecco, chiedo scusa al grande Carlo. Ecco, merci beaucoup. eravamo al raddoppiamento sintattico. Sì, raddoppiamento sintattico, vocali, consonanti, il palato, che bello, la P. Vi piace la P? Questa bilabiale esplosiva P. In chiesa, dopo aver letto la prima lettura, si deve pronunciare questa frase, parola di Dio. Parola di Dio. P. Questa esplosione. Cioè, il sottotesto sarebbe io ho letto, via il sottotesto, la parola di Dio. Vedete? Poi, dopo parliamo del sottotesto. Invece, molta gente che si chiede a toga, che va a leggere la lettura in chiesa, leggo io Don Franco e legge, legge tutto San Paolo, tricchi, 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 punto, finito, è parola di Dio. Ma chi te l'ha detto? C'è scritta la E? Non c'è scritta, perché quella E fa cadere l'esplosività della P iniziale, parola di Dio. Che meraviglia. Volete una labiodentale? V, la V. Volete, cosa volete? Una una Q, una un'angolosa, una consonante volosa. Ci vorrebbe, mi viene in mente un nome di caramella, ma non la posso dire, perché potrebbe potrebbe essere potrebbe essere inadeguato dire il nome delle caramelle, che sono sempre aperte, le caramelle, come le scodelle, hanno suonato il campanello di casa. Ecco, adesso verrà aperta la porta, la porta è sempre aperta. Voi non fatevi trascinare dal mio eloquio, voi dovete stare attenti a tutte le parole che io pronuncio, anche lentamente, e segnatele nelle colonne che avete disegnato, d'accordo? d'accordo, d'accordo dove lo scrivete, colonna dove lo scrivete, dizione dove la scrivete, dovete scrivere con la mano proprio, dovete scrivere, oppure, se avete un computer, avete fatto una quattro e l'avete diviso in quattro colonne. Chiedo all'assistente glorioso se posso continuare o mi devo fermare, continuo. Se non vi siete annoiati e suicidati, allora siete ancora vivi, allora possiamo anche continuare. Intanto sappiate che ecco entra mio fratello che ha una aperta, fratello, sorella, tutte le finali. Ah no, è arrivata la bombola, è arrivata la bombola che è molto bella, la bombola che ha una O chiusa, bombola, due, due O chiuse. ecco adesso il mio assistente prenderà i soldi e una O aperta perché noi sardi abbiamo il vizio di dire i soldi e gli occhi, tutto chiuso, no, è sbagliato, i soldi e gli occhi, però i sardi in genere e tutte le persone del sud hanno quasi timore a pronunziare bene l'italiano. sta parlando come un continente al Togo. No, perché voi vi vantate perché scrivete bene l'italiano? No, è normale scrivere bene l'italiano grammaticalmente ed è normale pronunciare bene l'italiano. Voi vi siete alzati, intanto saluto Fabrizio che porta via la bombola vuota. Ciao carissimo Fabrizio, sto lavorando e ti saluto cordialmente caro Fabrizio ecco e Fabrizio è andato Fabrizio povero ha caricato la bombola tre piani a piedi quindi piedi mi serve ecco vedete che tutto allora nel mio corso non si butta niente è come la carne di maiale non ci buttiamo niente anche se il mio coabitante la carne di maiale non può mangiarla ma a voi non ve ne frega niente niente è composto da i e i e apre niente piede mai capito mai capito mi hai capito quindi sforzarsi romani sardi lombardi sforziamoci di pronunciare le consonanti altro che arco vocalico certo che l'arco vocalico ci serve a e i o dovete eserciziarvi dovete esercitare molto spesso ma anche le consonanti che noi che abbiamo studiato la ragioneria le consonanti le abbiamo studiate graficamente p b t d le gli cioè noi abbiamo avuto dei segni leggeri o forti a secondo delle consonanti benissimo uno dice abbiamo esaurito tutto no allora dopo aver fatto un corso di dizione poiché ero bello buono e di gentile aspetto voi direte orsù non faccio lo spiritoso no ero veramente bello buono e di gentile aspetto esatto perché siamo tutti belli buoni e di gentile aspetto calincono no qualcuno no però la meraviglia della vita è che si passa dall'estetica all'etica cosa me ne importa a me di pronunciare bene l'italiano se sono un deficiente con gli altri se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli e non avessi la carità sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna dice San Paolo in quale lettera ve lo cercate perché basta che voi diciate a internet lo sapete meglio di me un bronzo che risuona e vi dà tutta la lettera non so se ai corinzi penso che sia ai corinzi quindi imparare bene l'italiano è doveroso è come conoscere bene la storia dell'arte cioè a me vengono i brividi sapere di un universitario che non conosce il rinascimento italiano mi vengono i brividi se non conoscete la pioggia nel pinetto che si dovrebbe scrivere in tutte le scuole vero? poi l'autore a noi non ce ne frega niente dell'autore ci interessa l'opera d'arte la pioggia nel pinetto ma ve la siete ascoltata letta da gazzolo letta da gasman da chiunque egli sia la pioggia nel pinetto ok la pioggia nel pinetto oppure sarebbe bellissimo che voi leggiate in congiuntivo il canto ventiseiesimo dell'inferno ok o voi che siete due dentro ad un fuoco si o meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli altri versi scrissi cioè Dante è un compositore di musica è un musicista non è uno che ha scritto la divina commedia è la divina commedia no Dante ha composto la divina commedia la commedia è diventata divina per Boccaccio quindi conoscere bene un testo ecco avete quel foglio e sarebbe interessante che prendiate sempre in congiuntivo una pagina che vi interessa forse l'ho detto all'inizio non so un articolo di giornale piccolo una poesia piccola insomma un foglio a quattro diciamo così un foglio a quattro corpo corpo dodici tredici o sedici piccolo e voi fate la lettura silenziosa molte insegnanti ignoranti dicevano leggete con gli occhi leggete con gli occhi cioè avresti offeso i non vedenti quindi si dice in italiano corretto fate una lettura silenziosa e poi fate la lettura ad alta voce noce croce atroce bene avete un testo vero? avete un testo è aperto cesta e festa avete un testo e cosa fate? in ogni parola segnate con un puntino con la matita sotto ogni parola l'accento tonico dove lo facciamo? dove lo dove lo mettiamo il puntino? allora se tavolo il tavolo è sul no il libro è sul tavolo libro metto un puntino sotto la i di bro è e vabbè è devo fare sul ok tavolo ecco dove mettete il puntino? la parola è tavolo tavolo o tavolò no è tavolo l'accento tonico cade sulla terza sillaba perché dico terza? perché comincio la destra la prima la seconda la terza ma per comodità per non incasinarci diciamo la prima tavolo però vorrei dirvi quella parola che usano tutti quanti gli insegnanti di edizione la parola è che ben si presta ben si presta tutte e due le e sono aperte che ben si presta è capito 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 capitò guardate che che meraviglia che è l'italiano che meraviglia è capitò è una parola tronca capito è una parola piana capito è una parola sdrucciola allora le parole sono tronche piane e sdrucciole ma la maggior parte delle parole italiane la maggior parte è piana le parole sono piane provate a parlare e vedete dove l'accento cade nella penultima nella penultima sillabe e a proposito di sillabe adesso mi sono accasciato sulla poltrona a proposito di sillabe bisogna sfoderare una dispensina che potete trovare nel sito attori punto com ai miei tempi c'era tutta la dispensa con le finali ovviamente le finali di E e le finali di O io che sono stato molto bravo e che non sono presuntuoso sono amante di me stesso perché se nessuno mi caga almeno mi chiedo scusa alla regia e alle signore ecco se nessuno mi vuole bene mi voglio bene io allora io da bravo come voi nel vostro campo ognuno di noi è bravo nel proprio campo e Dio sia lodato se noi nella nostra vita troviamo il nostro campo ma mi sto rivolgendo a degli adulti non devo fare il pedagogista bene nel mio santo vocabolario ho riportato un piccolo schema o schema sarà chiuso o aperto ve lo cercate delle finali più importanti per esempio tutti i gerundi sono chiusi fatemi esempio di un gerundio andando andando ma andando a una un gerundio con una E o una O tonica va bene diciamo una parola con la con la finale inendo che cosa abbiamo eludendo è aperto o chiuso mi sa che sono tutti aperti i i participi o mi sto sbagliando io io vi voglio nella mia misconoscenza di alcune parole faccio finta di darvi degli esercizi ecco cercatelo nel vocabolario invece non è vero è perché non lo so io capite così uniamo l'utile al dilettevole reverendo prendendo certo mentre perché che cosa ci interessa a noi nella dizione dei verbi are ere ire are ere ire ci interessano i verbi che hanno la desinenza in ere possedere bere ascoltere no ascoltere no ho fatto una battuta ma nessuno ha riso va bene va bene ecco chiedo all'eminente all'eccellenza la sua santità parlo ecco dieci minuti bene allora buongiorno vogliamo interagire ragazzi cominciamo col maschio della provincia di Calderi Vargi eccomi signor Vargi ecco io purtroppo non ti vedo però mi dicono che sei un bel ragazzo a quanto pare a quanto bravo mi piace la gente è sicura di sé cosa ti sembra di questa chiacchierata così buttata buttata come prima experience allora io sto seguendo il corso di edizione anche con Maria Sunta che ha appena iniziato quindi fare questo corso per me è molto piacevole per via del fatto che comunque mi servirà nel mio percorso artistico appunto verso il quale vorrei continuare certo è stata cioè una lezione molto interessante sperando di avere ancora la possibilità comunque di effettuare altri incontri se è possibile e comunque ho compreso tutto c'è una curiosità su quando hai detto la parola rosso volevo farti una domanda però non volevo interrompere la lezione dai caro rosso alla o aperta o chiusa 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 perché rosso deriva da rubro il rubicante ru in latino il colore rosso ha una u quindi rosso scusa ha una o chiusa sì a volte lo pronuncio aperto sì sì ah ok perché noi tendiamo a dirlo con la o aperta tendenzialmente noi sardi o no sì noi sardi sbagliamo molto e bisogna pronunciarlo chiuso perché basta ricordare il vino rubicante vero non so se l'hai mai bevuto il vino novello no mai no ecco vabbè per dire io faccio memoria così è rosso quindi è chiuso rosso rosso per ogni comunque per ogni perplessità bisogna consultare il vocabolario un bel vocabolario prego prego ho detto anche per i numeri lo stesso per sapere come si pronunciano certo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci però tutte le parole sono riportate sia nel dizionario cartaceo sia nel dizionario di ortopia e pronuncia della RAI che puoi trovare in internet in internet ti danno la pronuncia corretta tu sentirai la pronuncia se tu cerchi le parole entra in quel sito che è molto interessante va bene caro sì grazie mille grazie ci sentiamo avrai delle notizie se ci sono altre lezioni di sicuro ce n'è un'altra grazie grazie a dopo arrivederci adesso chi c'è chi c'è chi appare innanzitutto ti volevo dire che non avevamo parlato affatto perché eravamo affascinati dal tuo discorso grazie è stato un momento altissimo anche l'arrivo della bombola mi sono parecchio chiesta come mai una bombola stesse arrivando in casa ma ok cioè nel senso è arrivato prendo atto prendo atto sì sì io volevo semplicemente dirti grazie perché non sapevo di una serie di cose soprattutto di questa a sarda giusto sì brava la sarda mi sfuggiva proprio pago che diventa una o aperta non in tutti bisogna stare molto attenti bisogna stare molto attenti però in questo caso di poco si si fa un gemellaggio con la a u latina perché il sardo è una lingua neo latina una delle poche sopravvissute pago pago ma su vabbè adesso non me ne vencono però dovete stare attenti tutte le parole che scrivete trovate il corrispettivo sardo ok io del sardo sapevo soltanto questa cosa che è molto simile al pugliese nel raddoppiamento fonosintattico quindi sempre faccio parecchia attenzione per quanto riguarda le consonanti me ne accorgo spesso e magari certe volte mi scambiano anche un po' per sarda certo bisogna fare un esercizio questa cantillazio ok bisogna dividere tutta la frase in sillabe e cercare di pronuncia è una monodia che aiuta molto e poi quando devi parlare in pugliese con i tuoi cari parlerai in pugliese ma non si può anche non parlare in pugliese con i miei cari ora si può anche evitare io cerco di evitarlo anche a casa comunque è molto bello imparare l'italiano se sei appassionata mia cara sono certo che raggiungerai gli obiettivi che ti prefiggi perché chi si prefigge un obiettivo sta a lui lavorare perché l'insegnante scompare non c'è più cara grazie caro vive la Puglia vive la Puglia sempre sempre è quel ragazzo buono che ho incontrato tanti anni fa va bene noi siamo proprio portatori del gene tutti belli sono già in Puglia bravi portatori del gene della bellezza va bene ok passiamo un altro concorrente ecco ecco grazie il prossimo concorrente abbiamo qualche attesa poiché il collegamento non è così semplice però però possiamo ancora dire che ecco c'è ti sei presentata c'è una persona che non si è presentata con l'audio ding dong avete problemi con l'audio consultate un vostro amico vostro è aperto voi e invece chiude adesso il buon Carlo sì buongiorno io volevo ringraziare per questo corso che è diciamo il secondo forse il terzo che faccio perché io sono sempre alla ricerca di questi corsi di edizione un po' per compensazione nella mia vita perché l'uso della voce mi ha sempre affascinato ma l'ho usata veramente poco e quindi per compensazione sono sempre alla ricerca di questi corsi una cosa che volevo aggiungere sulla pronuncia sarda o italiana a me aiuta molto ricordare le parole come si pronunciano in sardo ad esempio come abbiamo detto prima il rosso che in sardo si dice a rubio quindi è chiuso e quindi mi ricorda molto la pronuncia come si dovrebbe esattamente pronunciare in italiano mentre quando i sardi pronunciano rosso in italiano sbagliano perché fanno la o aperta un'altra parola ad esempio che può aiutare è forno in sardo si dice forro quindi la o è chiusa niente volevo solo aggiungere questo che mi aiuta può essere un aiuto anche per gli altri ricordarsi com'è la pronuncia sarda poi niente sono contenta e sono emozionata brava l'emozione è una cosa principale l'emozione e l'entusiasmo io credo che tu scusami abbia tutte le potenzialità per poter fare un recital perché non ti scegli cinque brani non so di amore di amicizia di bellezza floreale scegli cinque testi e lavoraci tutta questa settimana e l'altra ogni giorno ritorno contorno contorno ogni giorno leggi prima fai la lettura silenziosa nervosa mimosa eccetera e poi fai la lettura ad alta voce perché chi è così incuriosita come te ha veramente la potenzialità di fare un bel recital letterario o accompagnato alla chitarra o come faccio io accompagnato all'arpa Dio ti benedica direbbero i preti ma io sono un laico e ti dico ti benedica la vita va bene cara grazie mille ciao margherita arrivederci sono sabrina ciao sabrina ciao ecco adesso c'è marco c'è marco marco e adesso su marco di dov'è buongiorno buongiorno marco ho messo un po' perché mi è caduto un bicchiere d'acqua sul computer povero gli è asciugato caro sì sì ho fatto ho fatto grazie da dove parli da dove chiami da vicino Roma vicino Roma sì ecco ci stanno 150 fagioli nel barattolo com'era il gioco quello 850 senti caro conosci già la risposta o ti facciamo di nuovo la domanda la domanda la domanda grazie la domanda allora la domanda è la seguente quanti anni hai ecco vediamo ah questa è facile 28 ah bravo bravo secondo secondo lo schema del comune quanto pesi quanto pesi eh beh troppo troppo non lo so non ho idea non è un'informazione tanto importante va bene allora passiamo allora all'addizione sì passiamo interessato perché hai uno scopo di lavoro di qualcosa sì sicuramente sì però più che altro è il fatto che non è mai non è una cosa che secondo me va allenata talmente tanto che qualsiasi occasione per migliorarsi va colta mi fa piacere sì perché sicuramente poi specialmente quando si torna a casa magari non ci sono stato tanto negli anni si tende a rirrafforzare quella parte di accento dialettale che che poi ogni volta se non si allena si ricomincia ad utilizzare in maniera sempre più evidente certo beh non dimentichiamoci che la lingua è il sangue cioè la lingua materna rimarrà sempre ma se qualcuno vuole cambiarla se per esempio vuole parlare in sardo con qualcuno e allora si dimentica della deizione e parla con un uomo allora e allora bisogna fare degli esercizi i romani hanno sta cosa di pronunciare di buttarci le parole che è molto simpatico forse è uno è una delle parlate più simpatiche d'Italia però se uno vuole migliorare come hai detto tu vuole migliorare la pronuncia allora è bene che faccia degli esercizi per esempio prova dimmi esercizio pronuncia esercizio esercizio meglio ancora esercizio ecco esercizio sì sì le S e le C e anche le gutturali i romani le strascicano perché perché la lingua del sangue del cuore dell'anima è come se parlasse il Colosseo è come se parlasse San Pietro ma è così è così e che dire di quel quartiere dove si mangia bene a Trastevere voglio dire il migliorarsi appartiene a noi infatti per me lo dico con nessuna presunzione il corso di edizione un corso che dura tre mesi con due lezioni alla settimana e quindi diventano dodici i tre mesi uno ha la possibilità quotidiana e sottolineo quotidiana di esercitarsi per raggiungere dei veri obiettivi la cosa più bella aperto sarebbe che un gruppo di sei ragazzi che studiano dizione per tre mesi alla fine elaborassero un recital letterario tratto da articoli di giornale dalla letteratura dalla poesia comunque sono contento se ti interessa mio caro bisogna che ti applichi Marco ti volevo dire che in tutta la mia vita te lo dico con confidenza non c'è mai stato un Marco brutto lo so questo è come come sta storia che tutti i Marco sono belli mi devi credere Marco no ci credo tutti i Marco sono belli tutti i stilarchi sono contento caro ci sentiamo una prossima volta va bene ok grazie grazie caro ciao ciao Luciano sì volevo fare una domanda su due parole chi è costrui sono Daniele il primo sì la parola troppo troppo aperta io direi di sì troppo che brutto chiusa troppo hai preso il vocabolario l'hai preso no a dire la verità no no allora per favore voi prima di fare la domanda al maestro dovete consultare il dizionario perché è un esercizio molto importante troppo beh istintivamente lo apro questa troppo mi sono divertito troppo che elegante senza senza problemi troppo però veramente il dizionario è uno forse c'è scritto nel mio programma è uno degli argomenti più importanti perché c'è riportata tra parentesi quadre la trascrizione fonematica e quindi troppo io istintivamente la pronuncio aperta troppo anche eh sì per esercitarmi anche io con la direzione mi conviene leggere molti testi letterari come hai suggerito anche agli altri certo tu hai una voce troppo bella hai una bella voce di gola perché si vede che emetti la voce proprio dal petto infatti bisogna mettersi o dimenticavo una mano sul petto ok e parlare e fare uscire la voce da lì dal petto certo esce dalla bocca ma è nel petto che vi dovete concentrare tu hai bisogno di leggere ad alta voce e scandire le consonanti devi fare un esercizio di rallentamento ok e quindi senza preoccuparti di raggiungere subito degli obiettivi il primo obiettivo è l'orecchio tu devi ascoltare il cinema e la radio professionale ovviamente quindi nel cinema non hai dubbi o nei bellissimi documentari naturalistici tu attraverso l'orecchio impari impari delle parole e tu per esercizio fai così ti ascolti il ti prendi una cassetta qualsiasi ascolti stop fai stop e scrivi una parola ancora le pecore hanno brucato molto questa mattina blocchi e tu segni le parole toniche nella colonna giusta d'accordo e poi controllo nel dizionario bravissimo bravissimo ok grazie ecco prego prego caro daniele va bene gentilissimo si sappiate che sono a vostra disposizione in queste due settimane quindi se volete scrivermi o o niente o comunicare fatelo pure o attraverso carlo o direttamente a me va bene ecco adesso chiedo a carlo sei ancora in linea daniele volevo sì volevo chiedere un'altra cosa per contattarti eventualmente come c'è un'email ecco carlo chiediamo a carlo carlo i ragazzi possono chiamarmi possono mandare whatsapp al mio whatsapp se tu vuoi sì mi faccio vedere tramite mail il tuo contatto sì ecco carlo vi farà avere il mio contatto così potete mandarmi dei messaggi registrati e interagiamo in queste due settimane va bene daniele grazie grazie prego daniele prego ricordati di salutare Assunta sì tanto la vedo stasera ecco diglielo ok grazie ciao grazie un saluto cordiale a tutti e buon pranzo come dice il papa ecco buon pranzo a tutti finito? grazie grazie ciao grazie ciao ragazze arrivederci ciao grazie ciao 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 ciao